Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite con il primo episodio delle Gigi News in questa nuova sesta stagione del capitolo 2 di Fortnite. Io direi che per il primo episodio delle Gigi News in questa nuova stagione dobbiamo arrivare almeno a 10.000 like quindi mi raccomando ragazzuoli lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto quindi mi raccomando raga controllate di essere iscritti e se non lo siete iscrivetevi e ovviamente vi ricordo che per supportarmi potete utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto grande tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite grazie avvero di cuore a chi lo farà. Mi raccomando controllate in basso a destra e ci sia scritto supporta un creatore GGYT tutto grande tutto attaccato perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. E direi anche di andarci a scioppare questo fantastico cubo ma si dai per 200 V-Bucks ce lo andiamo a prendere. Ovviamente col codice creatore GGYT tutto grande tutto attaccato. Detto questo ragazzi direi di non perderci ulteriormente in chiacchiere andiamo in game perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Oh no ragazzi tra l'altro sto registrando la sera del 18 marzo ovvero ieri per chi sta vedendo il video il 19 quindi il giorno in cui pubblicherò il video ed è il mio compleanno il 18 marzo è stato il mio compleanno tra l'altro ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri sui social tutti quelli che sono passati proprio ieri in live che abbiamo fatto una live speciale proprio per il mio compleanno e avevo messo la torta di compleanno come backpack e niente ragazzi è rimasto mi sono scordato di toglierlo. Ok ragazzi vorrei far diventare quelle casette il nostro spot per le GG News dato che ormai è diventato il nostro punto preferito di atterraggio. Ovviamente magari gli episodi in cui ho meno cose di cui parlarvi posso andare anche in altre città fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. Ma oggi ho davvero talmente tante cose di cui parlarvi che non so neanche se mi basta questo video però proverò a farci entrare tutto quanto. Vi dico solo di guardare il video fino alla fine perché oltre a delle news vi dirò e vi spiegherò delle cose anche molto interessanti. Perché le GG News sono anche questo. Allora ragazzi prima cosa una roba che proprio mi avete chiesto in tantissimi sia in live che sotto i commenti dei video. Questi sono i vari posizionamenti dei nuovi NPC o meglio non sono tutti nuovi gli NPC però diciamo i nuovi posizionamenti degli NPC. Lo so che non si vede benissimo ma non saprei come mettervela più in grande la mappa. Magari fate uno screen e poi zoomate la zona che vi interessa. Soprattutto se magari state ancora andando a cercare NPC da intervistare. Questa è la percentuale dei drop dei regali degli NPC perché non so se ci avete fatto caso ma gli NPC quando ci andate a parlare vi regalano cose. È una roba nuova di questa stagione. Bene queste qua sono le percentuali con cui vi possono regalare una determinata cosa. Davvero molto interessante questo discorso. Perché così ci obbliga un po' tra virgolette ad andare a parlare con tutti gli NPC. Cioè io un tempo o meglio nella scorsa stagione se non mi interessava andare a parlare con un NPC non ci andavo. Invece in questa stagione c'è anche la meccanica per cui se vai da un NPC ti può dare delle cose interessanti come le cure, come delle armi e tante altre cose. Secondo me ci sta interessante come meccanica di gioco. Poi questa è la posizione delle armi, un po' delle armi esotiche, delle armi che vi vengono vendute normalmente dagli NPC, da quelle che vi droppano dopo che li sfidate a duello. Insomma un po' i vari posizionamenti delle armi, anche questi ovviamente se vi interessa screenateli, fate uno zoom e vedete un po' se riuscite a capirci qualcosa. Ora invece ecco qui cosa vi rilascerà ogni singolo animale. Quindi quando andate ad uccidere sostanzialmente un animale ecco cosa vi rilascerà. Ovviamente tutti elementi che vi servono poi per craftare altra roba. La safe ovviamente è lontanissima. E queste invece ragazzi sono tutte le combinazioni che potete fare appunto con i materiali da crafting, chiamiamoli così, per le varie armi. Quindi i vari archi, le varie cose, le varie trasformazioni, potenziamenti eccetera eccetera. Questa ragazzi va imparata a memoria praticamente eh. Però diciamo che una volta e ci prendiamo la mano penso che verrà tutto più semplice. Comunque spero vi sia tornato utile un po' questo ripasso di tutte le nuove robe di questa stagione. Ribadisco le GG News sono anche questo. Ma ora andiamo a parlare invece delle nuove casse speciali. Sono davvero molto interessanti, io già ne ho aperta qualcuna. Ci tengo anche a precisare che sono disponibili anche nelle varie competizioni competitive. Quindi tornei, arena eccetera, quindi ovunque. Come leggete non cambiano mai di posizione. Vengono trovate praticamente sottoterra e possono essere trovate anche casualmente in delle vere e proprie buche. E sembra che in ogni punto di interesse ce ne sia uno. Anche queste ragazzi sono davvero molto importanti da tenere a mente. Ora anche lì non le so proprio tutte a memoria, poi magari ce le studiamo per bene in ogni città dove si trovano. E vi rilasciano solo armi epiche e leggendarie. Sono praticamente degli airdrop, regà. E probabilmente anche per questo hanno diminuito lo spawn degli airdrop. Non so se lo sapete ragazzi, ma hanno diminuito dell'esatta metà lo spawn degli airdrop. Ed è per quello che non si trovano quasi più in mappa. Però se ci sono queste mega casse direi che ci può anche stare. Ma la vera cosa interessante di queste casse è che sopra ogni cassa, da quanto ho capito, c'è sopra scritto questo Week 7. Quindi praticamente questa settimana 7. È possibile che accadrà qualcosa durante la settima settimana? Vediamo un po' che cosa accadrà. Perché potrebbe anche semplicemente essere uno sticker per abbellire la cassa. Non lo so, però mi sembra strano. Comunque ecco qui ricapitolate un po' tutte le informazioni che sappiamo sul nuovo starter pack di Salva al Mondo. Perché vi ricordo che per come starter pack di battaglia reale avremo Centurion. Che penso esca sempre dopo la prima o seconda patch. O comunque dopo la prima o seconda settimana. Vediamo un attimino poi quando uscirà. Io tra l'altro, regà, sto per morire di safe. C'ho anche uno sulla destra con un tram. Devo stare anche attento, spero non si fermi per pusharmi. Ho preso l'albero, fratelli. Ok, sta ancora correndo. Non posso sfruttare neanche la corrente del fiume perché è al contrario. Rispetto a dove devo andare in safe, purtroppo. Quindi niente, regà, non ci rimane che scappare, correre, dopo usare il flopper o un falò. Poi ragazzi, sembra che questa versione dorata di Lara Croft sia per il venticinquesimo anniversario del videogioco. Vedremo un attimino come e quando sarà rilasciata e come potremo sbloccarla. Ma sappiate che sembra che ci siano poi nuovi stili dorati, argenti e di altri materiali delle skin del pass. Quindi sembra che anche questa stagione avremo tutti quei stili di materiale prezioso, insomma. Comunque fatto sta che per sbloccare ogni stile delle skin del pass battaglia dovrai raggiungere il livello 215. Quindi possibilmente anche Lara Croft dorata si potrà sbloccare direttamente così. Non si sa ragazzi, vediamo un po'. La cosa che ci faceva un pochettino puzzare questa cosa è che se ci pensate bene è l'unica skin dorata che è stata mostrata durante il trailer e durante le presentazioni di questa stagione. Mentre la skin di Isabel, che tra l'altro dovrebbe essere uscita proprio oggi nello shop, comunque non lo so, se non è uscita oggi raga uscirà sicuramente nei prossimi giorni. Sembra contenere il dorso decorativo raga, tra l'altro ci stavo per morire, delle scritte relative al Kevin, il cubo. Tra l'altro ovviamente la safe continua ad essere sempre dall'altra parte. Chissà perché raga, cioè chissà il motivo di questa cosa. Cioè dovrebbe essere molto importante a sto punto sta skin. Ma ora parliamo un po' dei prossimi aggiornamenti ragazzi. Sembra che prossimamente venga aggiunta un'arma, raga, un'arma che spara materiali. È quella che praticamente teneva in mano Coccodè durante il trailer. Cioè raga ma ve la immaginate un'arma spara materiali? Cioè io non riesco ad immaginarmela. Cioè ribadisco, non so voi, ma io una cosa del genere non me la riesco proprio ad immaginare, ma vabbè. Oh no raga, oh no. C'ha pure lo spas. Si sta curando. Ma, 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 mannaggia. No, lo voglio tirare. Mannaggia raga, mi sbaglio sempre con sto pesce. Vi giuro mi sbaglio sempre. Ok, dovrei avergli fatto altro danno. Altro danno ancora, prima o poi morirà. Prima o poi morirà, ragazzi. Prima o poi morirà, ma moriremo anche noi praticamente per colpa della safe. Assolutamente sì, perché i cavoli che aveva erano soltanto due. Ma questo che stava a fare ancora qui, raga? Con la safe che stava arrivando in perterrita. Non credo che arriveremo mai, perché non ho ancora ben presente dove trovare movement e dove trovare roba per sbrigarmi ad arrivare in safe. Questo proviamo a mangiarlo. Vediamo un po', sì dai, ci ha curato un pochino, ma... La vedo molto dura, anche perché questa qui quando si ferma ci toglierà ben due. Eh, c'è un falò qui, raga, ma ci faremo ben poco col falò. Ci faremo davvero, davvero, davvero ben poco. Proverò un attimino ad attizzarlo, ragazzi. Mi mangio anche il cavolo. Cerco di prendere più vita possibile e poi correre. Ok, un medikit. Ci possiamo provare. È una corsa contro il tempo, ma ci possiamo provare. Comunque, ecco come si presenterà quest'arma spara materiali. È davvero molto particolare, eh. Ribadisco, non vedo l'ora di provarla se effettivamente poi uscirà così, perché è troppo strana. Poi non so se vi ricordate, ma nel trailer è stato mostrato un arco rampino, che però non è stato mai trovato da nessuno in game. Perché effettivamente non è ancora uscito, ve lo dico io, non dovrebbe essere ancora uscito. E dovrebbe uscire prossimamente. Tra l'altro, come tutti gli altri archi, farà ovviamente del danno. Quindi praticamente dovrebbe avere un danno anche lui. Poi una volta che beccate una struttura, eccetera, chiaramente farà anche da rampino. Quindi praticamente vi farà andare più veloce. Allora sfrutto un attino questo momento del falò per mettermi gli scildini. Cerco di mettermi... Oh, non mi sta curando il falò? Ah no, perché il falò era pari a quello che mi toglieva la safe. Quindi praticamente quello che mi dà il falò è uguale alla safe e quindi io non vado né giù né su. Ok, va bene, va bene. Cerchiamo di attizzarlo di nuovo. Cerco di salire il più possibile, ragazzi. Attizziamolo, 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 attizziamolo. Ti prego, dammi una... Un medikit? Va benissimo, va benissimo. Volevo magari qualche granata onda d'urto, ma va benissimo anche così. Ti prego, sbrigati, 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 perché ormai toglie due, è un botto. E guardate un po', ragazzi. Queste sono tutte le armi che usciranno a breve proprio su Fortnite. Come armi esotiche, armi dei vari NPC. No, regà, non faccio più in tempo a mettermi il medikit. Devo usare per forza l'acqua. Oh mio di regà, ho fatto una cavolata. A 22 mi dovevo iniziare a mettere il medikit, ma va bene. Ce l'abbiamo fatta, raga, è incredibile. Stavo dicendo, ecco qui, la Deadfire che la venderà... Ah, Deadfire venderà una revolver. Stavo per dire che Deadfire fosse una... Norica, 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 Norica. Oh mio Dio, stavo per rischiare tutto quanto. Non ci ho fatto caso. Mamma mia, riparte subito, mamma mia. Dicevo, Deadfire venderà una revolver, Corvina Rinata venderà un arco instabile, Lara Croft venderà l'arco rampino, e Rapace è settato come venditore della flare gun. Anche se in realtà Rapace, da quanto ho capito, è uno di quei... di quegli NPC che ti pusha, tipo un boss. Infatti, sarà un attimino da capire la situazione. Magari bisogna prima ucciderlo e poi si può comprare da lui la flare gun. Comunque, la prossima patch potrebbe essere tra tre settimane, la 16.10. E della 13.10, raga, ne abbiamo già parlato parecchio perché sta già nei test di prova da qualche mese. Da tipo un paio di mesi, raga, stanno già testando sta patch 16.10. Dovrebbe essere quella per Pasqua. Infatti, guardate quante volte è stata testata. 407 volte ed è un numero spropositato per una singola patch che non è un aggiornamento gigantesco. O meglio, non dovrebbe esserlo. E poi stanno già testando la 16.20, ben 73 test. Ma la vera cosa che mi ha stupito è che sembra che siano già in programma le futuri patch di questa stagione fino alle 16.30. Quindi già quella lì stanno preparando, quindi tra tre patch. Ma inoltre, sembra che ci siano in programma le patch 17, la stagione 7 e addirittura la patch 18, che è la stagione 8. Quindi, tecnicamente, la stagione 7 che abbiamo saputo debba uscire intorno a metà giugno, la stagione 8 dovrebbe uscire tre mesi ancora più tardi, quindi intorno a settembre. Quindi questi stanno già a preparare tutto e questo ci può far ben sperare che le prossime patch continuino a prendere un attimino il filone e continuare il filone del punto 0. Vedremo dove andranno a parare. Vi dico solo che domani, regà, vi voglio far uscire un video epico in cui andremo a parlare di tutte queste cose. Voi intanto lasciate like per supportare le GG News. Utilizzate il codice creatore GGY, tutto grande, tutto attaccato per supportarmi, ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Comunque, sembra che un hotfix abbia cambiato il nome del punto 0 in fioritura 0, fiore 0. Avete presente, no, che ha sempre avuto questa forma del fiore? Chissà che cosa vorrà dire sta cosa. Tra l'altro, sembra anche questo backpack. Comunque, spettacolari, regali, immagini del punto 0, veramente belle. L'evento, secondo me, è stato fighissimo. E c'è appunto me in descrizione, segui la farfalla di quel backpack, che è un po' la missione che ti dà Jonesy durante questa stagione, no? Le prime missioni non so se le state già facendo. Io le ho fatte tutte e infatti ho già sbloccato anche tutti gli stili di Jonesy. Comunque, regà, mi campero un attimo prima di fare l'endgame perché abbiamo praticamente finito. Adesso parliamo un attimino di un paio di notizie e poi dei dinosauri. Allora, sembra che a breve ci sia una collaborazione con Hasbro. Questo qui è un post che ha fatto direttamente Hasbro sui suoi profili ufficiali e parla del 26 marzo, quindi praticamente tra una decina di giorni, o meglio una settimana a sto punto. Chissà che cosa faranno, comunque c'è scritto che ci saranno più dettagli in futuro. Anche se a me quello lì sembra il fondatore. Poi nel trailer compare una città simile a Borgo Allegro. Chi si ricorda Borgo Allegro alzi la mano. Io, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Ci sarebbe un ritorno delle vecchie città e magari potrebbe essere l'inizio di un ritorno di massa di molte città. Ma adesso parliamo dei dinosauri perché, secondo una fonte affidabile che in passato ha già fatto trapelare diverse cose vere, i dinosauri arriveranno presto in gioco. Regà, io ribadisco, le notizie le prendo da Fortinet News, un canale Telegram che ormai utilizzo per le mie news da circa un annetto, e post fake, praticamente notizie fake, non le hanno mai riportate. Cioè riportano solo cose di cui si fidano. E lo potete vedere anche dai miei leak, perché effettivamente quello di cui parlo, a meno che non metto le mani avanti e vi dico che è una teoria o sono cose mie, di solito si avverano, quasi tutte, regà. È normale che ogni tanto si sbagli, perché comunque si parla di file di gioco che Fortinet può comunque modificare in ogni momento. Ma attenzione perché sentite qua. In mappa ci sono le uova e ci sono svariate fasi delle uova tradizionali, quindi quella normale. Quella rotta è quella più rotta e alcuni file parlano di nidi, che probabilmente da queste uova usciranno questi nuovi dinosauri. E qui abbiamo più info sui dinosauri, maggiori informazioni sui raptors, che sono appunto i dinosauri. Nomi in codice Robert, non mi chiedete perché. Dovrebbero nuotare, regà pazzesco, cioè, pazzesco, nuoteranno, ok. Avranno un messaggio di feed, oh mio Dio, di eliminazione diversa. Un rapace selvaggio eliminato, messo fuori combattimento, bla bla bla. E viaggeranno a gruppi e taccheranno singolarmente. Che ne pensate, regà, di un possibile arrivo dei dinosauri? Anzi, più che possibile, io penso sia mezzo che quasi confermato, eh. Ah, questo mi sta proprio a pushà così. Io, ragazzi, non ho l'assalto. Oh, ma quello sta lì. Regà, ma no, quello è un pollo. Ah, no, non è un pollo. Oddio, mi sembrava un pollo, c'ha la skin del pollo, mi sa. Ah, no, non c'ha la skin del pollo, perché mi sembrava un pollo? Vabbè. Ok, addirittura, così quello è cattivissimo, regà. Regà, non gli rompo le scatole, finché si focussa su quello, io non... Ah, no, Promo si è protetto da quello. Ce l'ha con me. Ce l'ha con me adesso, regà. Ce l'ha con me, spero stia per finire i colpi dei lanciarazzi, perché io sto per finire i materiali. E ribadisco, non ho un assalto che mi sarebbe tornato molto utile. Ma che vuole fare? Che pizza, ragazzi. Eh, sta in safe, ecco che vuole fare. Ok, ce l'ha con lui. Io provo a farlo cadere, regà. Io provo a farlo cadere. Ma che mi costa? Ma che mi costa, regà? Ma che mi costa, ragazzi? Quanto danno ha preso? Cioè, io se fossi caduto da una struttura del genere sarei tipo morto. Guarda se quello lì mi aiuta e gli prova a sparare. Col cavolo. Col cavolo mi ha provato ad aiutare quell'altro. Annaggia la miseria. Io ho fatto una cosa cattivissima. Ah, ok, bene. Come va? Come ha fatto a non farmi danno? Dio, regà. Qui mi ha detto proprio fortuna, eh. Eh, regà, devo stare attento. Perché lui c'ha lanciarazzi. Non posso scoprirmi. Eh, però pure lui deve stare attento, eh. Pure io. Ribadisco. Ah, questo era mio. Potevo sfruttarlo. Mettiamoci lo shieldino. No! Ha fatto prima lui. Stavo per sparare anch'io. Ha fatto prima lui. Regà, in questa stagione, questo è il terzo giorno in cui gioco, sarò arrivato almeno, e dico almeno, è come minimo, 7-8 volte secondo. In comunque una trentina di partite, non di più, eh. Cioè, una partita su tre arrivo secondo, regà. Ho già fatto svariate vittorie reali. Ma ormai arrivo sempre secondo, ragazzi. Cioè, non capisco. Sempre così, regà, vabbè. Ma veramente, eh, 7-8 volte. Ma comunque. Vi ricordo, codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite. Lasciate un bel mi piace per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Mi raccomando, supportate le GG News con un bel mi piace. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi episodi. In particolar modo, quello di domani. Perché in quello di domani andremo a parlare di cose molto, molto interessanti. Alla fine, proprio, della storia. Quindi oggi abbiamo parlato più che altro dei gioco. Di come si è sviluppato e come si potrebbe sviluppare. Domani andremo a parlare della storia. Quindi, punto zero, personaggi, NPC, boss. Fidatevi, regà. Detto questo, grazie ancora di cuore per il supporto e per aver guardato tutto il video. Ci becchiamo domani. Ciao, ragà.